Utilizzare la coscienza, anestetizzare la coscienza, e questo è un male grande. Quando il cattivo spirito riesce a anestetizzare la coscienza, si può parlare di una vera vittoria di lui, diventa il padrone di quella coscienza. Ma questo accade dappertutto. Sì, ma tutti, tutti abbiamo problemi, tutti siamo peccatori, e nel tutti c'è il nessuno. Tutti ma io no. E così si vive questa mondanità che è figlia del cattivo spirito.